Una casella PEC viene cancellata 90 giorni dopo la scadenza del servizio, se non è stato completato il rinnovo e registrato il pagamento. Se vuoi riacquistare la stessa casella, secondo le norme dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è necessario che tu sia lo stesso soggetto, cioè persona fisica o giuridica, che l'ha registrata in precedenza. La nuova registrazione, quindi, deve essere richiesta con lo stesso codice fiscale o partita IVA della casella cancellata. È importante considerare che in qualsiasi caso, per effetto dell'avvenuta cancellazione della casella, il nuovo servizio sarà fornito privo di contenuti. Non è in alcun modo possibile recuperare gli eventuali messaggi, l'archivio e ogni altro materiale di una casella PEC cancellata. Puoi scegliere tra due alternative. Riacquistare la stessa tipologia di casella che avevi in precedenza, cioè standard, pro o premium, o cambiarla. Per maggiori informazioni sulle differenti tipologie di servizio, puoi consultare il sito www.pec.it. In base a questa scelta, c'è una procedura dedicata. Se vuoi acquistare di nuovo lo stesso servizio che è stato cancellato, puoi accedere da ariaclienti.pec.it con lo username Aruba e la password. Ricorda che non puoi accedere con l'indirizzo della casella PEC cancellata. Se hai bisogno di recuperare le credenziali dell'account Aruba, clicca i link indicati, inserendo il codice fiscale o la partita IVA usati al momento dell'ordine della casella PEC cancellata. Per maggiori dettagli sulle procedure di recupero dati, consulta le guide dedicate. All'interno del pannello, clicca il pulsante Gestisci nel box posta certificata. Individua la casella PEC cancellata e sulla destra clicca Acquista di nuovo. Si apre una schermata di conferma della nuova casella PEC. Cliccando Prosegui, avvierai l'ordine. Potrai successivamente editare i recapiti dell'intestatario della casella, scegliere l'eventuale identificativo per la fatturazione elettronica e il metodo di pagamento che preferisci. Se invece decidi di riacquistare la casella con un servizio diverso da quello precedente, sempre dall'area clienti e sempre nel box posta certificata, clicca su Nuova casella. La pagina che si apre mostra le caratteristiche dei servizi disponibili e consente di fare un confronto per scegliere la migliore soluzione per le tue esigenze. Clicca il pulsante Acquista relativo alla soluzione che preferisci. Viene mostrato il riepilogo dell'ordine. Prosegui. Il pannello ti consente ora di scegliere il nome della casella da registrare. Se stai guardando questo video, significa che sei interessato a riacquistare la casella cancellata, quindi inserisci la parte prima della chiocciola e dal menu a tendina scegli l'estensione che avevi. Cliccando Prosegui avvierai l'ordine. Potrai successivamente modificare i campi editabili dell'intestatario della casella e il metodo di pagamento che preferisci. Dopo la registrazione del pagamento da parte di Aruba, si riceve apposita email di attivazione del servizio PECA all'email di posta ordinaria indicata in fase di ordine, contenente il link per creare la password di primo accesso alla casella PECA.